Conoscete il Castelmagno, quel formaggio stupendo, profumato, buonissimo che si produce nella provincia di Cuneo? È un formaggio pressato, come si dice, a pasta semidura, ottenuta con latte vaccino, avvolta addirittura erborinato e qualche volta può essere anche addizionato con piccole quantità di latte o vino o caprino. Il Castelmagno può essere prodotto e stagionato esclusivamente nei comuni di Monte Rosso, Prat-Leves e Castelmagno che sono dei piccoli centri urbani della Valle Grana in provincia di Cuneo. Solo lì è il vero Castelmagno. Se è poco stagionato ha una crosta sottile che varia dal bianco nero, dal bianco ocra diciamo, fino al giallo. Se stagionato assume un colore più scuro derivante da muffe e la crosta si spessisce. La pasta è bianca di un bianco avorio ma assume un colore giallo o crato con venature verdastre via via che la stagionatura aumenta. Il Castelmagno si riconosce dal marchio posto sulla base delle forme e costituito da una C stilizzata con abbozzi di vette alpine nella parte superiore e al centro una forma ellittica di formaggio intagliato. Non potete sbagliare.